Bentornato Cartigliano. A dire il vero, la squadra di Alessandro Ferronato non aveva mai disertato l'appuntamento con la prestazione, ma con i punti in palio, finora sì. I biancazzurri avevano raccolto tanti applausi, ma messo poco fieno in cascina. Tutto sistemato nel giro di 90 minuti. È bastato andare a Feltre per riempire il fienile con un 4-2 rotondo e senza discussioni. Il match contro la Dolomiti Bellunesi, fresca di cambio di allenatore, poteva essere la classica trappola in cui inciampare, invece è arrivata una vittoria di carattere e qualità. Sugli scudi Mike Mignati, autore di due assist su corner e poi i goleador del match, Lorenzo Barzon, Filippo Stevanin, un ex, Alberto Buson e Gianmarco Scappin. Soddisfatto l'allenatore del Cartigliano. Siamo partiti discretamente bene, abbiamo fatto quello che avevamo pensato di fare, contro una squadra che ha delle qualità davanti importanti. Siamo riusciti anche a contenerne il ritorno, poi alla fine c'è stato il gol loro che ha riaperto un attimo i giochi, ma siamo stati bravi poi a riattaccarli di nuovo e a trovare il 4-2 che ci ha dato quella tranquillità per portare a casa una vittoria importante. In eccellenza cade il Bassano, sconfitto in casa 1-0 nel derby con il Camisano. Per gli uomini di Mister Ezio Glerian, l'appuntamento con la vittoria in campionato si fa attendere. Finora solo 4 pareggi e appunto una sconfitta.